Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial. Oggi all'interno di questo video parliamo ancora di come si crea un e-commerce utilizzando la piattaforma WordPress. Dico ancora perché insomma negli anni ho realizzato diversi video tutorial appunto su questo argomento, ma insomma penso non sia mai abbastanza, soprattutto insomma se state iniziando appena adesso insomma con WordPress. Quindi se volete andare a realizzare un sito web magari utilizzando WooCommerce più WordPress, sicuramente questo video tutorial vi tornerà di grande aiuto. Naturalmente ragazzi se anche voi avete deciso di andare a realizzare il vostro sito utilizzando l'editor visuale Elementor. Elementor se non lo sapete insomma ho realizzato anche tanti video su questo argomento, è semplicemente un editor visuale che vi permette di andare a realizzare tutte le pagine del vostro sito web. Quindi all'interno di questo video vi farò vedere come potete andare a creare un intero e-commerce utilizzando appunto WooCommerce, ovviamente WordPress e l'editor visuale Elementor. Ora sto registrando questo video nel 2021, ma comunque questo tutorial sicuramente vi tornerà di aiuto se state guardando magari questo tutorial nel 2022, 2023 e così via, perché sono sicuro che questo video almeno per 2-3 anni vi tornerà di grande aiuto. Comunque ragazzi se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza a WordPress, ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi appunto e a gestirsi siti web in WordPress. Ovviamente insomma negli anni abbiamo avuto modo di realizzare davvero tantissimi siti web e-commerce, perché insomma siamo appunto specializzati sulla piattaforma WordPress. Quindi sono sicuro che questo tutorial vi tornerà di grande aiuto anche perché insomma è un tutorial completamente gratuito ed è anche, devo dire, un tutorial molto molto dettagliato. Comunque lo vedrete tra poco. Quello che è importante comunque, visto che questo video è abbastanza lungo, mi raccomando di guardare tutto questo video dall'inizio alla fine, perché tutti i passaggi che vi vado ad elencare all'interno di questo video sono davvero molto importanti e appunto li dovete seguire passo dopo passo. Detto questo, come sempre a me piace fare dei tutorial molto molto pratici, ovviamente questo è un tutorial super pratico, quindi adesso passiamo sul mio PC che vi faccio vedere gli strumenti che andremo ad utilizzare intanto per realizzare il nostro e-commerce e poi vi farò vedere proprio passo passo come potete andare appunto ad installare WordPress, ovviamente prima vi farò vedere anche dove potete andare ad acquistare dominio e hosting, poi appunto installare WordPress, installare WooCommerce e vi faccio vedere un po' come potete andare ad impostare il vostro negozio online. Quindi passiamo subito alla parte pratica e vediamo come potete andare a creare il vostro e-commerce utilizzando WordPress, WooCommerce e il plugin Elementor. Ok ragazzi, allora innanzitutto la prima cosa che dovete fare per andare a realizzarvi il vostro e-commerce con WordPress più WooCommerce, naturalmente andare ad acquistare il vostro dominio e il vostro spazio di hosting dove appunto andrete ad installare la piattaforma WordPress e dove appunto andrete a realizzare il vostro sito e-commerce. Ora sarò molto breve perché ho realizzato diciamo anche dei video tutorial molto specifici su questi argomenti che potete trovare all'interno del nostro canale YouTube. Ad ogni modo ragazzi, le aziende che noi consigliamo per quanto riguarda acquisto di dominio e hosting, in sostanza come prima scelta noi consigliamo sempre KellyWeb. KellyWeb è un'azienda tutta italiana, hanno i server proprio in Italia e quindi i vostri visitatori andranno a visitare il vostro sito web molto più velocemente perché appunto il vostro sito sarà ospitato su un server che è in Italia. Ad ogni modo ragazzi, per quanto riguarda andare a realizzare un sito e-commerce, come minimo io vi consiglio di partire con il piano KellyCMS. Ecco, questo come minimo perché gli altri due piani secondo me sono abbastanza limitati per quanto riguarda lo spazio perché insomma se andate ad inserire diversi prodotti all'interno del vostro e-commerce naturalmente andrete a saturare insomma questo spazio abbastanza velocemente. Inoltre potrete solo andare ad installare ad esempio una sola installazione di WordPress all'interno del vostro hosting mentre con KellyCMS potrete andare ad installare fino a 5 installazioni su 5 domini diversi mentre avrete installazioni limitate se andate ad installare WordPress su una sottocartella o su un sottodominio. Infatti come vedete insomma avete limitate email e anche database SQL che potete andare a creare e inoltre insomma avete 20 gigabyte di spazio. Inoltre se andate a cliccare sul link che trovate sotto a questo video come potete vedere insomma riceverete uno sconto speciale del 10% perché noi collaboriamo insomma con KellyWeb da diversi anni. Ora ragazzi naturalmente noi siamo affiliati a KellyWeb ma siamo affiliati anche a tantissime altre aziende di hosting sia in Italia che a livello internazionale. Abbiamo deciso di promuovere insomma KellyWeb perché noi stessi li utilizziamo all'interno del nostro sito e andiamo a consigliare questa azienda sia a voi insomma che state guardando i nostri video su YouTube o su Facebook ma anche proprio i nostri stessi clienti. Quindi insomma andiamo a consigliare questa azienda di hosting perché secondo noi offrono un servizio davvero eccezionale e anche il supporto clienti vi posso garantire che a livello stellare perché se aprite un ticket insomma vi rispondono davvero nel giro di mezz'ora massimo un'ora. Quindi risposte molto molto veloci. Ad ogni modo chiudo qui per quanto riguarda KellyWeb se invece volete andare a scegliere un'azienda proprio diciamo famosa a livello internazionale ecco potete tranquillamente andare a scegliere SiteGround. SiteGround è promossa insomma da tante altre persone e da tanti altri professionisti perché insomma è un'azienda che offre un servizio davvero eccezionale. Ecco i piani di hosting costano leggermente di più perché qui potete vedere insomma il piano startup costa 4 euro al mese per il primo pagamento e poi costa 13 euro al mese, IVA esclusa. Comunque sì ragazzi se volete andare a realizzare il vostro e-commerce qui come minimo su SiteGround vi consiglio di partire con il piano GrowBig sempre per lo stesso discorso che vi dicevo di KellyWeb. Comunque molto brevemente SiteGround come vedete è consigliato proprio da WordPress stesso e dagli sviluppatori insomma che hanno sviluppato i plugin più famosi per la piattaforma WordPress. come appunto WooCommerce e plugin Yoast SEO, quindi plugin molto molto famosi. Se andate sempre a cliccare sul link che trovate sotto a questo video ecco i piani di hosting sono scontati. Quindi questo per quanto riguarda l'acquisto di dominio e hosting perché su queste due aziende insomma potete appunto andare ad acquistare sia il dominio che l'hosting per il vostro e-commerce. Detto questo naturalmente una volta che avete acquistato il vostro dominio e il vostro spazio di hosting naturalmente il prossimo passaggio è quello di andare ad installare la piattaforma WordPress. Ora se andate ad acquistare l'hosting appunto e avete un vostro dominio potete andare ad installare WordPress in modo completamente gratuito. Infatti WordPress è una piattaforma open source completamente gratuita la trovate qui su WordPress.org se vado a cliccare appunto su scarica WordPress naturalmente qui ci permette di andare a scaricare WordPress in modo completamente gratuito. Ad ogni modo ragazzi adesso WordPress lo vado ad installare sul nostro server che abbiamo su KeliWeb così vi faccio vedere tutte le procedure guidate che davvero ci mettiamo meno di 5 minuti per andare ad installare WordPress all'interno del nostro dominio. Quindi tra pochissimo insomma vi faccio vedere la procedura. Detto questo una volta che avremo installato WordPress naturalmente andremo ad installare il plugin WooCommerce che appunto è la piattaforma più famosa per quanto riguarda la creazione di e-commerce con WordPress. Come vedete insomma ha ricevuto da vario tantissime anche recensioni positive ed è stato sviluppato questo plugin anche da molto tempo e naturalmente viene sempre aggiornato con il tempo perché al momento insomma oltre 5 milioni di installazioni attive per quanto riguarda questo plugin quindi un plugin molto molto popolare. Detto questo una volta installato WordPress andremo ad installare anche Elementor che Elementor come potete vedere da qui in sostanza vi permette di andare a creare tutte le pagine del vostro sito in modo completamente autonomo grazie insomma a questo editor visuale molto molto potente che come vedete è praticamente drag and drop quindi prendete gli elementi li portate all'interno della pagina come vedete da questo breve video e poi li modificate praticamente sempre da questa colonna di sinistra. Quindi se avete del tempo a disposizione e volete andare a crearvi il vostro sito web in completa autonomia perché magari volete andare a spendere poco per realizzare il vostro e-commerce lo potete fare grazie ad Elementor. Elementor è un plugin sia disponibile in modo gratuito che a pagamento comunque per andare a realizzare un sito professionale dovete per forza di cose andare ad acquistare Elementor Pro che se vado a vedere praticamente i loro prezzi comunque davvero costa poco il plugin perché per quanto riguarda l'utilizzo su un singolo sito come potete vedere costa 49 dollari all'anno quindi non è che costi chissà che e vi permette appunto di andare a creare il sito in completa autonomia. Quindi ragazzi adesso mi trovo sul sito di Keliweb e adesso vi faccio vedere come potete andare ad installare Wordpress una volta che avete acquistato il vostro dominio e spazio di hosting. Semplicemente andate sul sito di Keliweb andate a cliccare qui su accedi e effettuate l'accesso con le credenziali che vi ha inviato Keliweb una volta che avete acquistato il vostro dominio e spazio di hosting. Una volta che avrete effettuato l'accesso al pannello di amministrazione come potete vedere insomma tutto il pannello è in lingua italiana quindi vi troverete sicuramente benissimo. Ora dovete andare qui su hosting e poi una volta che siete qui come vedete adesso noi abbiamo un piano KeliCMS attivo su Keliweb comunque andate semplicemente a cliccare qui su cpanel perché questo praticamente è il pannello dove potete andare a gestire tutto quello che riguarda l'hosting che avete acquistato su Keliweb. Infatti qui come vedete potete andare a gestire tutti i file che avete sul vostro hosting e così via insomma ci sono molte applicazioni che potete trovare all'interno del cpanel. Comunque per andare ad installare wordpress qui sulla barra di ricerca semplicemente scrivete appunto wordpress e andate ad aprire questa applicazione perché praticamente questa applicazione vi fa installare wordpress in completa autonomia quindi quello che dovete fare è semplicemente andare a cliccare qui su installa e qui praticamente andiamo a completare la procedura guidata. Ovviamente come versione di wordpress lasciamo l'ultima versione che è disponibile in questo momento. Come protocollo mi raccomando andate a scegliere il protocollo https senza il www che giorno d'oggi insomma non viene molto utilizzato e qui naturalmente andate a scegliere il vostro dominio. Ora ragazzi naturalmente su questo dominio io ho già installato una installazione di wordpress quindi all'interno di questo video mi vado semplicemente ad installare wordpress in una sottocartella voi però mi raccomando andate ad installarvi wordpress sul vostro dominio principale quindi qui nella cartella io ad esempio scrivo sito test ok giusto appunto per questo video tutorial voi ancora mi raccomando questa cartella lasciate la vuota e andate semplicemente a selezionare il vostro dominio. Qui sulle impostazioni del sito potete tranquillamente lasciare queste impostazioni così come sono di default perché questi dati insomma li potete andare a modificare successivamente dal pannello di amministrazione di wordpress. Una sezione molto importante invece è questa qui quindi account admin perché qui dovete andare a definire appunto i dati di accesso che utilizzerete per accedere al pannello di amministrazione del vostro sito. Quindi adesso qui vado ad inserire i miei dati voi mi raccomando andate ad inserire un nome utente e una password che siano difficili da indovinare qui ragazzi sul campo delle mail mi raccomando di andare ad inserire un vostro indirizzo email che utilizzate spesso adesso io ho inserito un indirizzo email fittizio ma voi appunto andate ad inserire un email che utilizzate perché poi wordpress vi invierà insomma delle notifiche per quanto riguarda il vostro sito all'interno di questa casella di posta elettronica. Naturalmente qui per quanto riguarda la scelta della lingua dovete andare a scegliere la lingua per quanto riguarda il pannello di amministrazione di wordpress. Io naturalmente lascio la lingua italiana qui sulla scelta dei plugin vi consiglio di lasciare le spunte così come sono o meglio di non mettere alcuna spunta su questi plugin perché sono plugin aggiuntivi che non vi serve andare ad installare all'interno del vostro sito. Poi andate a cliccare qui su opzioni avanzate e sul nome del database io vi consiglio altamente qui di scrivere praticamente un nome che ricordi praticamente il vostro sito. Nel mio caso il mio sito si chiama semplicemente sito test quindi qui su database scrivo appunto sito test perché così so che questo database SQL è collegato al mio sito di test. Voi ovviamente andate a scrivere insomma il nome del vostro sito. Poi per quanto riguarda tutte le altre impostazioni lasciatele così come sono di default scorrete la pagina e andate infine a cliccare su pulsante installa e adesso praticamente wordpress verrà installato all'interno del vostro dominio. Come vedete adesso si sta installando all'interno del nostro spazio di hosting adesso non metto in pausa il video perché come avete visto da varo nel giro di 10 secondi si è installato wordpress all'interno del nostro dominio. Ora una cosa molto importante adesso questo primo link praticamente se lo vado a visitare come vedrete ecco qua che adesso wordpress è stato installato correttamente all'interno del mio dominio ovviamente sotto la sottocartella sito test ma voi insomma sarà stato installato sul vostro dominio principale. Quindi questo è appunto il vostro sito e il secondo link invece come vedete è praticamente l'indirizzo del vostro sito slash vp trattino medio insomma admin. Quindi adesso vi consiglio altrimenti di cliccare su questo link e di andarvi a salvare questo indirizzo magari sui preferiti del vostro browser perché come vedete adesso siamo proprio all'interno del pannello di amministrazione di wordpress e naturalmente da qui potete andare a gestire tutto il vostro intero sito web. Infatti da qui potete anche andare a visitare il vostro sito come potete vedere ecco qua il nostro sito. Ora ragazzi graficamente non è che sia proprio il massimo comunque poi vi farò vedere come andare appunto ad importare un template grafico realizzato in modo professionale per il vostro e-commerce. Vi farò anche vedere come lo potete andare a modificare in completa autonomia grazie al plugin Elementor che tra poco andremo anche ad installare. Quindi ragazzi adesso che abbiamo installato wordpress all'interno del nostro dominio e all'interno del nostro spazio di hosting adesso è arrivato il momento di andare ad installare la piattaforma woocommerce all'interno del nostro sito. Ancora woocommerce è semplicemente il plugin che vi permette di trasformare diciamo il vostro sito wordpress in un sito e-commerce. Quindi per andare ad installare il plugin semplicemente qui dalla colonna di sinistra andate su plugin aggiungi nuovo e praticamente sulla barra di ricerca qui in alto a destra scrivete semplicemente woocommerce e lo andate ad installare all'interno del vostro sito. Quindi andate a cliccare qui su installa adesso e successivamente andate a cliccare sul pulsante attiva perché una volta che è stato installato il plugin lo dovete andare ad attivare all'interno del vostro sito. Quindi attendete un attimo insomma che il plugin si installi ecco qua che adesso il plugin si è installato e andate a cliccare sul pulsante attiva. Ed ecco qua ragazzi che il plugin adesso è stato attivato e ci porta praticamente su questa configurazione guidata. Qui mi raccomando se avete già i vostri dati insomma del vostro negozio andate ad inserire qui praticamente i dati del negozio. Adesso io salto questa configurazione perché non voglio insomma andare ad inserire dei dati fittizi ma voi mi raccomando andate ad inserire i dati del vostro negozio. Per il momento io salto questa configurazione anche perché adesso che ho saltato appunto la configurazione vi volevo far vedere che potete trovare comunque sempre la configurazione qui su WooCommerce Home. Quindi qui praticamente vi basta andare a cliccare su uno di questi link per andare appunto ad impostare le varie impostazioni del vostro e-commerce. Qui vi consiglio anche di andare a diciamo ad abilitare o meno ad esempio iscrizione per i suggerimenti. Per il momento io vado a cliccare su ignora e praticamente questo messaggio non verrà più visualizzato all'interno di questa pagina. Fate questa cosa una volta e poi siete a posto insomma per sempre. Adesso il prossimo passaggio è quello di andare naturalmente ad installare Elementor all'interno del nostro sito. Adesso come vedete io ho già acquistato insomma i plugin Elementor Pro per andare a scaricare il plugin una volta che lo avete acquistato. Ancora vi ricordo potete semplicemente andare ad acquistare diciamo la versione più base dei plugin che costa all'incirca 50 euro all'anno. Comunque una volta che lo avete acquistato andate a cliccare su questa icona e andate a scaricare Elementor. Adesso io me lo sono già scaricato all'interno del mio pc quindi per andarlo ad installare su questa mia installazione di WordPress vi basta andare sempre su plugin aggiungi nuovo. Questa volta visto che il plugin è stato scaricato sul nostro pc andiamo a cliccare su pulsante carica plugin seleziona file e andiamo a selezionare i file di Elementor quindi appunto il file relativo al plugin e andiamo a cliccare su pulsante installa adesso e come sempre mi raccomando di andare a cliccare su pulsante attiva plugin in questo modo Elementor verrà appunto attivato all'interno del nostro sito. Ora la versione Pro di Elementor praticamente richiede per forza di cose diciamo la versione base disponibile in modo gratuito all'interno del database di wordpress.com. Semplicemente andate a cliccare su questo pulsante e anche la versione base di Elementor verrà installata in automatico all'interno del vostro sito quindi molto molto semplice. Perfetto e come vedete adesso anche Elementor è stato attivato all'interno del nostro sito. Il prossimo passaggio se vado praticamente qui su aspetto temi vedrete che qui è stato praticamente installato il tema di default di wordpress che al momento è il tema che si chiama 2021. E ora ragazzi finalmente arriva il bello perché adesso vi faccio vedere come potete andare a realizzare il vostro sito e-commerce andando ad importare prima un template che è realizzato in modo professionale all'interno del vostro sito. Quindi per fare questo dobbiamo andare ad installare un plugin aggiuntivo che poi comunque se volete potete andare a disattivare quindi andate sempre qui su plugin aggiungi nuovo e qui sulla barra di ricerca andate semplicemente a scrivere starter template e andate appunto ad installarmi e ad attivarmi questo plugin che in sostanza appunto vi permette di andare ad importarvi dei template all'interno del vostro sito. Questo praticamente in modo completamente gratuito e poi praticamente il template ve lo potete andare a personalizzare davvero al 100% utilizzando appunto l'editor visuale elementor. Quindi adesso plugin è stato installato per andare ad importarvi un template vi basta semplicemente andare appunto qui su aspetto starter templates e qui praticamente troverete molti template a vostra disposizione. Vi basta semplicemente qui andare a scegliere naturalmente elementor come editor visuale e qui praticamente su questo menu a tendina andate a scegliere e-commerce e come vedete questi sono tutti diciamo template che potete andare ad importarvi all'interno del vostro sito questi praticamente sono template gratuiti. In questo esempio io vado semplicemente magari ad importarmi questo template oppure mettiamo caso vado ad importarmi questo template perché l'altro template l'avevo già importato su un altro video tutorial che ho realizzato quindi ecco qua come si visualizza il template. Se volete potete andare a cliccare su questo pulsante e si apre praticamente il sito in una nuova scheda del vostro browser. Quindi il template come vedete si visualizza in questo modo. Come vedete è stato realizzato in modo altamente professionale e a voi basta semplicemente cliccare su un pulsante per andare ad importarvi questo intero sito web e che naturalmente è davvero fantastico. Quindi semplicemente da qui andate a cliccare su questo pulsante centrale per andare ad importarvi l'intero template. Questa praticamente sarebbe la procedura guidata qui potete andare semplicemente ad inserire insomma dei dati fittizi qui saltiamo insomma l'iscrizione alla newsletter che non ci interessa e come vedete adesso praticamente il plugin va ad installarsi tutti i componenti di cui ha bisogno per far funzionare insomma il template che ci stiamo andando ad importare all'interno della nostra installazione wordpress. Quindi mi raccomando attendete un attimo che tutti i componenti vengano importati all'interno del vostro sito. Perfetto e come vedete adesso l'importazione è stata terminata. Andate semplicemente a cliccare su questo pulsante e adesso praticamente si apre l'home page del vostro sito e come vedete ragazzi ecco qui che il template è stato importato perfettamente all'interno del mio sito. Infatti praticamente come vedete adesso qui siamo proprio sull'home page del nostro sito e se vado praticamente sul menu principale e vado a cliccare su shop quindi sul negozio come vedete siamo sempre all'interno del mio sito siamo all'interno della pagina del negozio ed ecco qua come si visualizza il nostro negozio online. Quindi in modo molto minimalista ma molto funzionale perché vengono praticamente visualizzati i prodotti bene qui al centro dello schermo. Se vado a cliccare su un prodotto magari il primo che vi faccio vedere questa qui praticamente sarebbe la scheda del prodotto. Quindi abbiamo appunto l'immagine del prodotto qui sulla sinistra, il nome del prodotto, il prezzo naturalmente, una breve descrizione e qui l'utente ha la possibilità di andare ad aggiungere il prodotto al carrello. E qui insomma c'è la sezione per quanto riguarda la descrizione più completa del prodotto e qui ci saranno le varie recensioni. Quindi come potete vedere tutto diciamo il template è stato importato correttamente all'interno del sito e come vedete è stato realizzato in modo professionale. Ad ogni modo ragazzi adesso naturalmente vi faccio anche vedere come potete andare a modificarvi qualsiasi cosa di questo template. Quindi naturalmente andando ad utilizzare l'editor visuale Elementor. Semplicemente ragazzi adesso vado sull'home page del sito, ecco qua appunto l'home page, se la volete andare a modificare con Elementor tutto quello che dovete fare è andare a cliccare qui su modifica con Elementor e adesso praticamente si aprirà l'editor visuale che vi permette di andare a modificare l'intera pagina in modo appunto visuale tramite un semplice drag and drop come vi facevo vedere all'inizio di questo video. Quindi ad esempio ragazzi se volete andare semplicemente a modificarvi questa scritta potete fare clic con il mouse andate magari a selezionare il testo e qui scrivete magari non so testo di prova ok e come vedete adesso il testo è stato cambiato oppure se ad esempio volete cambiare questo testo spostate il mouse su un determinato elemento andate a cliccare su questa icona e qui sulla sinistra come vedete praticamente potete andare a cambiare il testo ma sempre da qui potete andare a cambiare anche tante altre impostazioni per quanto riguarda questo determinato elemento. perché ad esempio se vado a spostare il mouse su questo pulsante e vado sempre a cliccare su questa icona come vedete qui le impostazioni sulla sinistra sono cambiate ancora perché le impostazioni variano in base all'elemento che volete andare a modificare. Inoltre questa colonna di sinistra se volete spostate il mouse qui sul lato praticamente destro della colonna la potete andare ad allargare o a rimpicciolire a vostro piacimento. Oppure ancora se volete andare a vedere proprio in tempo reale come si visualizza la pagina al lato front end vi basta andare a cliccare su questa icona e come vedete adesso praticamente la colonna scompare e anche tutti gli elementi grafici scompaiono per quanto riguarda la modifica degli elementi e questo appunto è come si visualizza adesso la pagina al lato front end. Quindi come vedete insomma potete fare tutto all'interno dell'editor visuale di Elementor. Molto brevemente se volete andare ad aggiungere nuovi elementi all'interno della vostra pagina vi basta andare ad esempio se voglio andare ad aggiungere mettiamo caso un nuovo pulsante andiamo a premere sull'elemento appunto pulsante e lo andiamo a trascinare ad esempio sotto a questo titolo. Come vedete adesso l'elemento appunto pulsante è stato aggiunto sotto al nostro titolo. Ovviamente ancora se vado a cliccare sul pennino da qui posso andare appunto a personalizzare il mio pulsante. Qui vado a cambiare il testo però se andate qui sul tab stile da qui naturalmente potete andare a modificare tutto quello che riguarda l'aspetto grafico di questo determinato elemento. Quindi ad esempio se volete andare a cambiare il colore di sfondo andate qui e come vedete qui insomma potete andare a cambiare il colore di sfondo del vostro pulsante. Qui potete anche andare a cambiare il colore del testo come vedete in questo modo. Insomma tutto in modo molto molto visuale. Se volete potete andare a mettere insomma un raggio all'interno del vostro pulsante e così via. E come vedete ecco qua che adesso il pulsante è stato creato. Ovviamente lo potete andare ad abbellire come vi pare. Ora per quanto riguarda l'andare a spostare determinati elementi all'interno della vostra pagina web ancora vi basta andare a premere su questa icona tenete premuto il tasto sinistro del mouse e andate a trascinare l'elemento dove volete. Adesso lo vado a trascinare sotto a questo pulsante e come vedete ecco qua insomma che è stato trascinato correttamente. Ovviamente se volete potete anche andare ad aggiungere uno spazio andando qui su avanzato e se volete qui potete andare a dare un nuovo margine ad esempio 50 pixel. Come vedete ecco qua che lo spazio è stato aggiunto. Insomma molto molto semplice grazie all'editor visuale elementor potete andare a modificarvi davvero qualsiasi cosa del vostro sito. Quindi adesso andiamo a cliccare magari su aggiornare e adesso l'home page del nostro sito magari se vado a vedere appunto l'home page proprio diciamo lato front end vedrete che l'home page è stata modificata. Quindi molto molto semplice. Adesso invece vi volevo far vedere molto velocemente le impostazioni di e-commerce perché naturalmente è una cosa molto molto importante per quanto riguarda il vostro negozio. Quindi adesso vado a chiudere tutte le altre pagine e ci focalizziamo appunto sulle impostazioni del vostro negozio online. Comunque ragazzi molto velocemente se andate all'interno del nostro canale youtube che si chiama assistenza vp potete trovare davvero centinaia di video lezioni che ho realizzato in modo completamente gratuito su wordpress. Quindi se semplicemente sulla barra di ricerca andate a scrivere vcommerce all'interno del nostro canale potrete trovare davvero tanti altri video completamente gratuiti per quanto riguarda vcommerce che sono sicuro vi potranno tornare di aiuto per la realizzazione del vostro sito e-commerce. Detto questo trovate le impostazioni di vcommerce naturalmente come vi dicevo anche prima sotto a vcommerce. Quindi qui trovate appunto le impostazioni che adesso vado appunto all'interno di questa pagina e qui sulla sinistra comunque trovate anche delle voci per quanto riguarda i prodotti che volete andare ad inserire all'interno del vostro negozio. Poi qui trovate insomma delle statistiche per quanto riguarda il vostro negozio online e degli strumenti per quanto riguarda delle attività di marketing come ad esempio la creazione di codici promozionali che potete andare a creare direttamente all'interno di questa sezione. Ad ogni modo ragazzi ora una cosa importante che mi sono dimenticato di fare prima è quella di andare ad attivare Elementor. Semplicemente andate a cliccare su questo pulsante e qui adesso praticamente vi fa collegare il vostro account in modo tale che così potete andare insomma ad aggiornare Elementor con tutta facilità direttamente dal pannello di amministrazione di WordPress. Perfetto adesso che abbiamo insomma attivato Elementor siamo a posto per sempre. Ad ogni modo adesso le impostazioni di vcommerce ancora come detto le trovate qui su vcommerce impostazioni. Qui trovate le impostazioni generali che ancora qui come potete vedere potete andare ad inserire l'indirizzo del vostro negozio. Quindi mi raccomando andate ad inserire l'indirizzo del vostro negozio e qui una cosa molto importante dovete andare ad inserire dove volete andare a vendere i vostri prodotti. Quindi ad esempio se volete andare a vendere i vostri prodotti solo in Italia qui andate a scegliere vendi in specifiche nazioni e qui naturalmente andate a scrivere appunto Italia e praticamente potrete andare a vendere solo i vostri prodotti in Italia. Qui potete andare a scegliere anche la località di spedizione insomma tutte impostazioni per quanto riguarda appunto le cose principali del vostro negozio online. Qui andate ad inserire la valuta naturalmente sicuramente andrate a vendere in euro potete andare a vedere la posizione insomma come viene visualizzata la valuta e così via. Mi raccomando poi di andare a cliccare su questo pulsante per andare a salvare le modifiche. Poi per quanto riguarda la scheda dei prodotti naturalmente qui potete andare a definire appunto la pagina principale del vostro negozio online e potete andare a definire insomma per quanto riguarda le misure dei vostri prodotti. Poi se andate qui su inventario naturalmente qui potete andare a gestire i prodotti del magazzino quindi se andare ad abilitare la gestione delle scorte e così via. Poi se andate a cliccare qui su prodotti scaricabili non so se lo sapete ma grazie a WooCommerce potete anche andare a vendere solo dei prodotti digitali quindi non solo prodotti fisici. Ad ogni modo su spedizione naturalmente qui trovate tutte le impostazioni per quanto riguarda appunto le spedizioni che effettuerete all'interno del vostro negozio online quindi qui andate a cliccare su aggiungi zona di spedizione e naturalmente qui appunto andrete ad inserire le varie zone dove volete andare a spedire i vostri prodotti. Qui su pagamenti naturalmente questa è una sezione molto importante perché qui potete andare a collegare naturalmente il bonifico bancario ma anche paypal e anche stripe se volete. Vi basta semplicemente andare ad installare il plugin relativo al pagamento con stripe. Ad ogni modo ancora ho realizzato un video tutorial specifico sui pagamenti di WooCommerce che potete sempre trovare all'interno del nostro canale youtube. Qui su account privacy naturalmente trovate le impostazioni per quanto riguarda la privacy del vostro sito quindi insomma tutto in modo molto molto dettagliato. Se andate su email invece anche qui una sezione molto importante perché qui andate a definire praticamente le email che riceverete voi come amministratori del vostro negozio infatti qui come vedete destinatario sulle prime tre email ci sono io come amministratore ma tutte le altre email sono relative al cliente che andrà ad acquistare dei prodotti all'interno del nostro sito quindi relative appunto agli ordini in sospeso, ordini in lavorazione, ordini completati e così via. Naturalmente da qui se volete potete andare ad abilitare o meno determinate email che volete andare ad inviare a voi stessi oppure ai vostri clienti e anche qui una sezione importante praticamente da qui potete andare a personalizzare i template di default che vi mette a disposizione WooCommerce che verrà appunto visualizzato dai vostri clienti quando andrete ad inviare delle email. Ad ogni modo naturalmente prima fate dei test che così vedete come si visualizza il template con questi colori e poi ve lo potete andare a personalizzare come preferite in base insomma al vostro brand. Poi se andate qui su integrazioni quindi su questo tab qui naturalmente trovate vari servizi che potete andare a collegare all'interno del vostro e-commerce mentre se andate sull'ultimo tab quindi impostazioni insomma avanzate all'interno di questa pagina come potete vedere trovate impostazioni avanzate che molto probabilmente non andrete mai a toccare sulle vostre negozi online. Quindi questo per quanto riguarda diciamo le impostazioni generali di WooCommerce poi naturalmente se andate qui sulla sinistra trovate lo stato relativo agli ordini che vengono effettuati all'interno del vostro sito naturalmente adesso non c'è nessun ordine poi qui su clienti ovviamente trovate tutti i vari clienti che hanno acquistato o hanno insomma magari aggiunto dei prodotti al carrello all'interno del vostro negozio online e naturalmente potete andare a trovare appunto il nome del cliente, l'indirizzo email e così via. Su codici promozionali naturalmente da questa sezione potete andare a creare i vostri codici promozionali quindi se volete andare ad attivare alcuni sconti per un determinato periodo magari all'interno del vostro negozio lo potete fare all'interno di questa sezione. Ancora ragazzi qui su prodotti invece se vado a vedere tutti i prodotti naturalmente qui andrò a vedere tutti i prodotti di test che sono stati importati eccoli qui dal template che ho importato precedentemente quindi questi sono i prodotti di test che vedete qui all'interno del negozio principale vi consiglio per il momento di lasciarli così come sono perché praticamente andate a cliccare su modifica e da qui potete vedere come sono stati configurati in questo modo potete andare a creare insomma i vostri prodotti quindi come vedete qui c'è il nome del prodotto, la breve descrizione, qui trovate praticamente tutte le schede relative magari al prezzo del prodotto, all'inventario, la spedizione, attributi insomma articoli correlati per quanto riguarda la passelle e così via. Mentre dalla colonna di destra praticamente qui potete andare a definire insomma lo stato del prodotto quindi se effettivamente è visibile al pubblico oppure no e qui potete andare anche a definire una categoria che naturalmente se volete potete andare ad aggiungerne anche di nuove, qui se volete potete andare anche ad inserire dei tag all'interno dei vostri prodotti, qui troviamo praticamente delle impostazioni per quanto riguarda il layout del tema che è stato attivato all'interno del nostro sito mentre qui una sezione importante è relativa alle immagini del prodotto, qui se volete comunque potete anche andare ad inserire una galleria di prodotto andando appunto ad inserire le vostre immagini qui su galleria prodotto, in questo modo sulla scheda principale qui del prodotto verranno visualizzate praticamente diverse immagini qui sotto al diciamo l'immagine principale del prodotto. Ancora ragazzi questo è tutto insomma per quanto riguarda questo video vi ho fatto vedere diciamo le cose principali che dovete andare ad utilizzare o meglio andare ad installare per creare il vostro negozio online andate all'interno del nostro canale youtube perché ho realizzato diversi video tutorial per quanto riguarda argomenti molto correlati a WooCommerce che ancora vi consiglio altamente di andarveli a vedere per andare a realizzarvi il vostro intero sito web. Ok ragazzi se siete arrivati fin qui beh complimenti perché questo tutorial è venuto abbastanza lungo comunque sia se voi volete andare a realizzare un vostro negozio online utilizzando appunto WooCommerce più Elementor sicuramente questo tutorial insomma vi è tornato di aiuto. Se è stato così per cortesia quantomeno vi invito a lasciarmi un bel mi piace sotto questo video e se non lo avete ancora fatto e siete interessati a questi argomenti vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale youtube e di mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina facebook. In questo modo riceverete delle notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare nuovi video su questi argomenti che sono sicuro vi possono tornare di aiuto adesso e in futuro per i vostri progetti online. Ora se avete dubbi o domande su quanto spiegato all'interno di questo video che comunque è stato un tutorial molto lungo ecco sentitevi liberi di lasciarmi magari il vostro commento qui sotto al video io o il mio team insomma farai molto possibile per rispondere ai vostri commenti ovviamente ragazzi sempre tempo permettendo che purtroppo il tempo è sempre limitato. Comunque vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video spero ancora che vi sia stato di aiuto ma noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo tutorial quindi non mi resta altro che salutarvi ragazzi e noi ci vediamo all'interno del prossimo video